Anche l'acceleratore, se manetti forte va, eh! Oh, non fare 150 km, eh! Che a piedi faccio fatica! Non picchiamo, eh! Eh, scusami! Cherry time, questo si chiamerà il video! Sì, sì, solo, però! Fai quello che vuoi! Fai quello che vuoi! Allora, facciamo questo, va! E poi, controllo, ma per le vincere! Decidere anche l'acceleratore! Vasco, sì! Proprio! Oh, puig! Proprio! Proprio! Eh, eh! Dopo che passi da Ciondone, 한 Moh! Che sapevo así! Buon appetito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se stai tanto indietro dopo tendi a tirarla su perché la nostra pesa di più. Il giovane ci ereda. Ti viene a girare proprio qua. Eh lo sapevo che c'è da qua. No, ma sbagli solo i pesi. E' normale. Cioè come fai a scendere da questa e sali su quella lì i pesi sono diversi. Cioè sta tanto indietro. Eh che non avendo ragione non so dove va. Non lo sa neanche lui. Eh ho idea anch'io. Adesso prova la rampanza. Le pocciane sono troppo reattive. È tutto reattivo rispetto a te. Eh ma va. Quei due alberi lì non mi piacciono però eh. Perché c'è passato pelato. Solo che la mia motosega non va più. No ma sono pericolosi. 10 a destra ancora se vuoi. Sei più diritto. Ciappe ciappe. Eh eh. Troppo indietro. Stai in mezzo. Non pesarla indietro. Basta. Stai in mezzo centrale. Dio papà. E' un'attacca. Bravo. Perché guarda. Non è neanche. Guarda. Bambino è contento. A posto. Eh. Non è neanche. Questo mandi è tutta strada. Poi cazzo. Teng teng. Però. Se mi chiamano da 80 kg. Questa qua. Non succede niente. Questa qua. Eh. Allora però. E' un po' che è conciliato. 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 Grazie a tutti.